Riapre il Consiglio regionale e all'orizzonte si profila già una nuova grana per il centrodestra. A mettere i bastoni tra le ruote di Toma e dei suoi fedelissimi è paradossalmente una mozione a suo tempo presentata dall'assessore Niro, che mirava la rimozione dell'allora commissaria d'acta per la sanità Giustini, rimosso si motu proprio a seguito delle note vicende giudiziarie, e che adesso potrebbe essere integrata da un emendamento presentato dall'ex governatore Iorio e dalle due ex leghiste Aida Romagnolo e Filomena Calenda. L'emendamento, composto di due parti, mette sul tavolo questioni, una più insidiosa dell'altra, la rimozione dei vertici dell'azienda sanitaria regionale e la riapertura del Vietri di Larino come centro Covid, due temi che chiamano direttamente in causa il presidente della regione Toma. Di sua nomine, infatti, è il direttore generale dell'ASRE, Moreste Florenzano, a più riprese nel mirino dei dissidenti del centrodestra e delle opposizioni, mentre sulla questione Vietri centro Covid è da tempo nota la posizione contraria del presidente della regione. L'emendamento Iorio è pericoloso per il centrodestra, poiché potrebbe rivelarsi il cavallo di Troia nella cui pancia si nascondono, e nemmeno poi tanto, le opposizioni da PD e Movimento 5 Stelle, vi è una manifesta disponibilità a votare il dispositivo confezionato, oltre che da Iorio, anche da Romagnolo e Calenda. Sarà proprio quest'ultima a finire nuovamente sotto i riflettori. Bisognerà capire se l'ex leghista e neo assessore manterrà la propria posizione o se invece farà retromarcia per assumere un nuovo orientamento. Nel caso l'emendamento venisse approvato con i voti dell'opposizione, aggiunti ai tre firmatari, si aprirebbe nuovamente quella voragine politica appena chiusa due settimane fa con il rigetto della mozione di sfiducia. Uscita dalla porta, come il gatto di Alice nel Paese delle Meraviglie, la sfiducia a Toma in questo caso rientrerebbe dalla finestra, ma al momento questa è un'ipotesi di scuola teorica. Poi nella pratica bisognerà capire se in aula tutti manterranno le proprie posizioni, cosa che in politica è una delle più complicate in assoluto.